Musica Lunedì 16 aprile, ben ritrovati con Infostudio e buon inizio di settimana, anche se iniziamo con alcune cattive notizie partendo dall'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla provinciale tra Tropea e Vivo Valencia nel territorio di Drapio. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. Nell'incidente si sono scontrate frontalmente due auto. Una era condotta da Salvatore Montesanti, 55enne residente all'Imbadi, un operatore del servizio sanitario 118 che stava recandosi al lavoro e che si è scontrato con l'altra auto condotta da una donna di 30 anni. Montesanti ha perso la vita, la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tropea Amara. La sorpresa per paramedici e medici del 118 che giunti sul posto hanno scoperto trattarsi di un loro collega sembra anche molto apprezzato e stimato. Tra poco vedrete delle immagini che si riferiscono ad un'auto fermata dalla polizia stradale, dagli agenti del servizio antidroga della questura di Catania al casello di San Gregorio dell'autostrada Messina-Catania. L'auto proveniva dalla Locride ed era guidata da Cosimo Tassone, di 27 anni, che si è rivelato essere un corriere della droga. Nella vettura, infatti, nascosti all'interno di un vano che si apriva con un telecomando, ecco state vedendo proprio il momento in cui viene aperto e viene estratta questa sostanza, che era stato ricavato sotto il bracciolo tra i sedili anteriori, sono stati scoperti e sequestrati due panetti di cocaina, ecco che viene anche tirato fuori il secondo, per un peso complessivo di 2,2 kg, quindi quasi oltre 2 kg, quasi 2,3 kg di cocaina. Tassone, naturalmente, è stato arrestato. Ed è stato arrestato anche un quarantenne che in casa, a Pedace, aveva 560 g di cocaina. Le foto che state per vedere si riferiscono a questo, questa è la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza. È un commerciante di bombole, porta a porta, un quarantenne che è finito in carcere, è arrestato appunto per detenzione di droga. Vedete sul tavolo del Comando Provinciale dei Carabinieri ciò che è stato ritrovato, i soldi, parecchi soldi, e poi anche la droga. Un panetto di hashish di circa 80 grammi era stato ritrovato grazie al fiuto di un cane antidroga. Poi, in diversi punti dell'abitazione, sono stati trovati oggetti utili al confezionamento e nel doppio fondo di un armadio guardaroba a muro è venuto fuori mezzo chilo di cocaina accuratamente confezionato sotto vuoto. Durante le operazioni sono anche state trovate una cartuccera con 35 colpi calibro 7,62, traccianti che sono utilizzabili quindi per armi da guerra, compresi i Kalashnikov e gli MG42. Bene, la droga, la cocaina, le armi, tutto il resto, la droga e la cronaca la mettiamo da parte per il momento, perché adesso vi parliamo di cose certamente più piacevoli, ma anche impegnative, perché affrontiamo l'argomento Vinitaly, vi stiamo già da un paio di giorni pronunciando come ci siano due nostre troupe lì a Verona. Vinitaly è stato inaugurato ieri, se ne sono occupati tutti i media con dovizia di particolari. Allora, alle 12.30, anzi, e poi è iniziato intorno alle 13, 10 minuti prima delle 13, si è tenuto l'iniziativa convenistica sull'alberello secco, la vera rivoluzione avviata dagli enotri, quindi migliaia di anni fa, almeno due migliaia di anni fa, dagli enotri, dicevo, nel metodo di coltivazione della vite, una iniziativa che è stata mediata e moderata da Massimo Tigani-Sava e che è terminata pochissimo tempo fa. Lasciatemi fare i complimenti a Walter Rocca in regia, l'iniziativa è terminata pochi minuti fa, è iniziata poco prima delle 13, non sono ancora le 14, e il servizio confezionato da Francesca Traviezzo può già andare in onda. Ci sono una cultura millenaria, una storia antichissima e affascinante dietro la riproposizione dell'alberello enotrio che vedete qui alla mia sinistra. Parliamo di coltivazione della vite, un tipo di coltivazione cosiddetta palo secco, vale a dire con una canna oppure con un palo secco, appunto una tecnica di coltivazione che affonda letteralmente le radici nella storia, è antichissima, addirittura antecedente all'epoca magno-greca, è in particolare caratteristica di alcune zone della Calabria e della Basilicata. Da uno studio attento delle fonti storiche dei trattati di vitivinicoltura si può ipotizzare che furono gli enotri a inventarla, oppure comunque ad ergerla al sistema di coltivazione della vite, insegnando di fatto questa tecnica a tutti i popoli successivi, compresi i coloni che diedero vita alla Magna Grecia. Si tratta dunque di un fortissimo marcatore d'identità territoriale da riscoprire e valorizzare, perché potrebbe caratterizzare con precisione la nostra regione, con tutto ciò che comporta questo in termini di marketing territoriale. Di questo si è parlato quest'oggi nello stand calabrese del Vinitali di Verona, in un incontro organizzato nell'ambito del progetto di comunicazione integrata Magna Grecia Lifestyle, con il sostegno di Io Scelgo Calabria e con la collaborazione di Video Calabria e Local Genius. Massimo Tigani Sava, giornalista e scrittore, direttore di Local Genius e ideatore di Magna Grecia Lifestyle, ha illustrato il suo studio ricco di fascino agli esperti del settore vitivinicolo calabrese, proponendo l'alberello enotrio a patrimonio dell'UNESCO. Quasi tutti i trattati di vitivinicoltura, ha spiegato Tigani Sava, raccontano lo spostamento della civiltà vitivinicola da oriente verso occidente fino in Magna Grecia a sud e nel mondo etrusco a nord. Qui però il modello di coltivazione prevalente è quello della vite maritata, cioè della vite lasciata crescere attorno ad un albero. Gli stessi trattati parlano però anche della florida stagione enotria che diversi secoli prima della nascita della Magna Grecia si caratterizzò proprio per la sapiente coltivazione della vite e per la produzione di vini. L'origine stessa del nome enotri si ricollega non solo al vocabolo che identifica il vino o in os, ma anche a o in otron, che è il palo secco della vite. Ora, dice Tigani Sava, assodato che l'allevamento con palo secco della vite rappresenta una rivoluzione epocale nella storia della vitivinicoltura, questo può significare o che lo inventarono gli enotri in Calabria e Lucania, oppure che in quegli stessi territori gli enotri portarono questa tecnica al suo sviluppo più alto, segnando una tappa di importanza assoluta che oggi viene discussa e rivalutata. Una tappa che comunque sia caratterizza in modo identitario, unico e distintivo almeno una parte della produzione vitivinicola regionale, con tutto il buono che ne consegue sotto il profilo non solo culturale, ma di marketing territoriale e del vino che è implicito in questa riscoperta. Su questa iniziativa dell'alberello secco che gli enotri introdussero come vera e propria rivoluzione nella coltivazione della vite, trasmetteremo presto uno speciale al ritorno, chiaramente, e dunque alla fine dell'assegno, al ritorno dei nostri operatori da Verona, poi vi diremo quando, sia su Videocalabria che sul canale 197, ovvero capriccio sempre del nostro bouquet. Ma di Vinitaly continuiamo a parlare, perché a Vinitaly poi si fanno incontri, del resto sono rassegne di carattere internazionale, la più grande rassegna nazionale, ma sono molte le visite anche dall'estero, immancabilmente, ieri c'erano tutti i grossi calibri della politica, tanto che la discussione sulle trattative per una nuova maggioranza di governo si sono spostate proprio lì a Verona. A Verona abbiamo sentito il dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Carmelo Salvino, e dallo stand calabrese è stato in visita anche uno dei masterchef, Gio Bastianici, imprenditore, possessore di molti ristoranti, e imprenditore anche vitivinicolo, quindi uno che di vini se ne intende, che ha tessuto le lodi del vino calabrese. Carmelo Salvino, capo dipartimento dell'assessorato agricoltura della Regione Calabria, è qui a Vinitaly, è qui a Vinitaly a raccogliere i frutti di una cosa che si stava manifestando come un successo. Tanti visitatori, tutti gli stand, visitatori stranieri e italiani, è sintomo che si è lavorato bene? Sì, si è lavorato bene, soprattutto si è lavorato in armonia istituzionale con i consorsi di tutela della Regione Calabria, sono due consorsi di tutela, uno terri di Cosenza e l'altro di Ciro. Abbiamo avviato tre anni fa un percorso che era quello di portare allo stand della Regione Calabria il maggior numero di produttori vitivinicoli calabresi che ci stiamo riuscendo. A testimonianza di questo percorso, di questo nostro obiettivo, oggi c'è un testimone d'eccellenza qui a Vinitaly che è Gio Bastianici, conosciuto in tutto il mondo per fare la promozione del mangiare del cibo sano e buono. Il bello, l'interessante di essere americano, italo-americano, la realtà calabrese in America è fortissima. Mi sento che tutti italo-americani, tantissimo, anche la parte di mia moglie, sono italo-americani che sono partiti dalla Calabria tanti anni fa. Allora, viva Calabria! Viva la Calabria che sta lavorando molto bene. Gli Stati Uniti, l'America, sono il focus di questo Vinitaly e la Calabria in questo senso ha molto da dire. C'è una riscoperta di vitigni storici, rossi, ma anche di vini bianchi e questo tu lo confermi. Certo, un vino così, sicuramente super pulito, si sente assolutamente il vitigno autottono, mineralità. Il compito di un vino italiano è di raccontare un po' del posto. Recentemente ho avuto l'opportunità di anche andare a Reggio Calabria, visitare, stare lì. Quando vai lì capisci veramente è la porta dell'Italia che va al Mediterraneo, al Middle East, all'Africa. È molto bello, come ho detto prima, la Calabria è la fortuna che le persone e i sapori parlano del posto. Un'ampia zona della Calabria centrale ieri è stata interessata da forti raffi che diventano a vento caldo, poi che ha causato danni e disagi. In modo particolare i Vigili del Fuoco che hanno davvero riposato pochissimo ieri perché sono dovuti intervenire nel Vibonese, nel Catanzarese, nel Lamettino per comignoli di Velti, alberi caduti, pali delle telecomunicazioni spezzate, hanno, ripeto, avuto una giornata di superlavoro. Tra poco vedrete delle foto che si riferiscono a ciò che è avvenuto ad Acconia di Curinga dove, oltretutto la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore ieri, si è intervenuti perché un tetto è stato completamente divelto, il tetto di uno stabile in costruzione, è stato scoperchiato ed è finito su un'auto. Situazione che è stata critica, ripeto, almeno in due province, Catanzare e Vibo, a causa delle forti raffiche di vento. Tuttavia, i meteorologi, il dato è di poco fa, è alla conferma di quanto già per la verità si andava dicendo, questa sarà una settimana con temperature alte, da primavera inoltrata, anche fino a 25 gradi. Per la verità, dovremo attendere però giovedì, il fine settimana di sicuro, sarà molto caldo e soleggiato, mentre al sud l'instabilità permarrà, dovrebbe permanere anche domani e mercoledì, ma il tempo, ripeto, sarà bello poi da mercoledì al nord e da giovedì sul sud e su quasi tutto il paese. Avremo temperature pomeridiane tra 20 e 24 gradi con punte di 25. Parliamo adesso di lotta alla SLA, la sindrome laterale amiotrofica. In Calabria purtroppo i dati sono molto negativi, sconfortanti per quanto riguarda in specie i malati, le loro famiglie e i cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano attenzione, cioè quelli che si occupano in sostanza dei malati, che poi sono quasi sempre familiari e che spesso addirittura devono lasciare il lavoro, il 32%, sono persone che hanno già un lavoro e che qualche volta quel lavoro, in specie si tratta della moglie, del malato, quel lavoro appunto devono abbandonarlo. Il 30% dei pazienti è in condizioni di lockdown, ovvero è in tetraplegie e paralisi della maggior parte dei muscoli, purtuttavia senza perdere le funzioni cerebrali, giudicate voi se è meglio o peggio. Sono dati contenuti in una ricerca che negli ultimi sei mesi dello scorso anno è stata effettuata e dalla quale si partirà anche per approcciare in maniera più precisa ed incisiva questa terribile malattia. Faticosamente, la Calabria tenta di recuperare l'inaccettabile ritardo che accusa nella conoscenza dei numeri della sindrome laterale amiotrofica. Negli ultimi sei mesi del 2017, infatti, l'Associazione Italiana contro la SLA e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap hanno condotto una ricerca, i cui risultati sono stati presentati a Catanzaro, presso la cittadella regionale, che ha coinvolto i malati, le loro famiglie, i medici di medicina generale e di caregiver, ovvero le persone che si prendono cura dei malati, che ha riconsegnato l'immagine di un segmento tra i più dolorosi della sanità calabrese. La SLA è una patologia che ha infatti effetti ed aspetti devastanti ed ha un'evoluzione velocissima che non si concilia con i tempi della burocrazia e che non può tollerare un approccio approssimativo da chi ha compiti dirigenziali nella sanità. La ricerca rappresenterà uno strumento di lavoro operativo per adottare iniziative e correggere errori e lacune. Siamo andati casa per casa e abbiamo censito circa 120-130 persone con la SLA. Siamo riusciti a fare in tutto 238 interviste, però compresi medici specialisti, medici generici che seguivano le persone e i cargiver. Praticamente sembra un numero piccolo per una ricerca sembra che non ci sia un campionario importante, però se poi si va a pensare ai grossi bisogni che queste persone hanno per poter in qualche modo sopravvivere la loro esperienza con la SLA perché è un'esperienza piuttosto pesante, non sono pochi e necessitano anche di un'assistenza molto particolare per cui non si può improvvisare, non possono neanche essere calcolati insieme a tutti gli altri perché c'è proprio bisogno di intervenire perché altrimenti quegli anni di vita di convivenza con la SLA diventano davvero troppo traumatici. abbiamo trovato una Calabria che fa fatica a dare delle risposte perché queste persone molte a casa loro tutte proprio a carico della famiglia a carico del cargiver che è un familiare generalmente in pochissime situazioni sono altri ma sono altrimenti sono familiari dove c'è anche un problema di povertà perché è un'assistenza di questo tipo richiede comunque una disponibilità anche delle persone per cui chi fa il cargiver non può andare a lavorare e per cui ripesano anche sull'economia della famiglia. Abbiamo visto dei patenti gravissimi la maggior parte appunto sono già in condizioni in fase abbastanza avanzata hanno una prospettiva di vita veramente breve purtroppo tant'è che tanti di loro che hanno risposto al questionario oggi non ci sono e quindi richiedono interventi immediati risposte immediate un fondo che risale al 2012 e che solo adesso siamo riusciti a portare alla luce finalmente questa ricerca gli anni sono tanti come i ritardi sono costanti anche su altre situazioni quindi ci auguriamo che possa essere un primo passo una risposta verso una patologia così rara e da oggi riniziare rimettendo appunto con delle basi con dei dati certi per riprogrammare in maniera adeguata quelli che sono gli interventi per questi pazienti quel che emerge dalla ricerca è la forte necessità di nuovi modelli di assistenza l'abbattimento delle lungaggini burocratiche e l'impiego adeguato delle risorse a disposizione che sono piuttosto esigue tra i primi provvedimenti già annunciati la convocazione entro 60 giorni di un tavolo specifico sulla SLA per organizzare al meglio i diversi attori e spezzare l'isolamento dei malati e delle famiglie frequento la regione da almeno 5 anni mi sono resa conto che i cittadini calabresi hanno dei diritti che sono soggiaciuti non soltanto sono disattesi perché manca la conoscenza manca la consapevolezza da parte anche dei professionisti di ciò che in realtà il paziente affetto da SLA dovrebbe avere e non solo magari potrebbe già avere in regione Calabria questa ricerca mette in evidenza chiaramente le mancanze e anche le necessità e le progettazioni che si devono fare e non rimandare ad altri tempi domani con l'anticipo tra Inter e Cagliari iniziano le gare della 33esima giornata di Serie A la 14esima di ritorno siamo ormai alla fine della stagione la lotta per lo scudetto e quella per non retrocedere passano domani sera dopo domani sera mercoledì da Lezio Scita perché mercoledì 18 aprile alle 20.45 si gioca Crotone Juventus che sarà arbitrata i direttori di gara sono stati designati questa mattina da Michael Fabri di Aravenna gli assistenti saranno Alassio e Costanzo il quarto uomo a Battista alla Var l'ufficiale sarà Lapenna il suo assistente sarà Giallatini siccome la lotta per lo scudetto passa da Crotone aggiungo che sarà Calvarese di Teramo che ha arbitrato la gara persa dal Crotone sabato scorso a Genova contro il Genova l'arbitro di Napoli Udinese ed infine un parco giochi sarà installato all'interno del centro di accoglienza per i chiedenti asilo di Isola Caporizzuto per i bambini naturalmente figli dei migranti l'area attrezzata è stata donata dall'Unicef questa iniziativa resa possibile grazie all'ambasciatore dell'Unicef a Crotone l'orafo Michele Affidate ed è stata sostenuta dal prefetto di Crotone Cosima di Stani il parco giochi verrà inaugurato il 20 aprile prossimo venerdì prossimo è tutto per questa edizione vi ricordo che il telegiornale torna alle 19.10 grazie per averci seguito e a più tardi grazie a tutti grazie a tutti